per realizzare il nostro video dobbiamo avere ben chiaro sin da subito che cosa fare per evitare di perdersi e di fare confusione per prima cosa dobbiamo scrivere il soggetto all'ultima era glaciale si filippo geologo esperto del quaternario è alla ricerca di quella litologia che testimonia l'avanzata dei ghiacciai risalenti all'ultima era glaciale dopo aver scritto il soggetto dobbiamo scorporarlo in scene e dar vita alla sceneggiatura partiamo dalla scena 1 1 la giriamo in strada in esterno dunque e di giorno che cosa succederà filippo sale in macchina accende il motore e parte se filippo sale in macchina accendo il motore e parte fatto questo per tutte le scene siamo pronti per iniziare a girare e adesso andiamo sul set ciao 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 ciao